bella regaz qui a randalone bentornati in questo nuovo video oggi abbiamo il video della finale del torneo di god che c'è stato domenica scorsa finale tra danni casi e matuber passiamo subito al video che è una bella finale speziatissima o le vince il matuberone il matuberone che parte limit removal blowback pot ring call e reasoning cava macchina reasoning speziale ok ci stava invece il dan parte doppio thunder drago upstart sorcio pot of greed la vera combo bel mat fa pot setta una figurina bassa qui onesto aspetta c'ha soul c'ha il tributo fa roba vabbè il dan fa qualsiasi cosa esistente sulla faccia della terra si rifà la mano ok pesca un sacco di mostri setta nita silent così ha il sorcio live se lo ammazza bello clean setta giara passa che il matt penso che certo sull'exchange frio già va bene così può attaccare perché sull'exchange andiamo avanti velocissimi o k qual sorciore entra dritto oppa via setta il blufo setta due passa da asciut che gli rimanda lo scorpione incredibile rimanda la fusiliere via si vola qui reasoning per uno dei quici il trenino magico snaccio stillo ring ovviamente portarlo via lo scorpione magico tremendo incredibile devastante velenoso qui è qui c'è stato una bo di mat che pensava per qualche motivo di questo faccesse perforante e infatti ma infatti non c'è non vuol dire proprio nulla lo perde questo è stato un misplay capita 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 vorrei dire che era tardi ma non è così ok vabbè il matt pesca il trenino ancora picchia stavolta al moffo ma questo non fa assolutamente bene col per picchiare ancora avrebbe preso avesse giocato il matt correttamente aveva ancora questo giù questo picchiava 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 aveva ancora limitere muva in mano gli faceva mille sette cinquecento in cinquecento donne andava a tremila millequattro dritti millequattro dritti perché aveva col limitere muva era g capita capita è successo così non è un mazzo che sicuramente il mat gioca tutti i giorni quindi l'ha fatto per il content e io lo rispetto altamente vabbè il danni setta tutto quel cristo che ha questo era forte probabilmente da fare però comunque perdeva da un sacco di roba questa questa mossa cioè fare meta su lui portarlo via subito però difficile doveva proprio leggere mst difficile questo muore lo scorpione di cui ci rimane lì un po' così vabbè non ho niente da commentare in questo trebuto, sanga, naddo picchia easy sette due figurine qua era forte questa pescata se non l'avesse pescato ovviamente judgment anche perché qua entra king dragoona e king dragoona dalmeno in questo preciso momento è da togliere qui c'è il tanda drago che fa il danno setta spia limiteremo non se ne fa assolutamente nulla pesca car destruction fa un bordello più finito car destruction che pesca serpente il mat da un pesca breaker da far subito istantaneamente via breaker si becca ring anche qui un piccolo scherzio del mat perché non c'è un modo per cui tu ti prenda mille nove di breaker si attiva l'effetto in prio ovviamente se breaker attacca è un altro discorso però vabbè rimane poco niente ma il danni è settato c'è reggiki break tt sarà anche una pescata abbastanza forte però sotto tre dura vabbè poi questa di qui c'è entrata forse è stato un bel ginzone fosse entrato ginzo era era finita è così vabbè passiamo al secondo game ok parte ancora il matuberone parte snatch token thanksgiving limite ring cold wave metamorfosi ok niente mostri set ring passa la mossa degli dei ok qui il dann setta spia setta scape setta dashut fa dashut meno incredibile perché non ha pescato nulla assoluto infatti non fa assolutamente nulla c'è questa spia che chiama l'altra spia bitta va bene che non ha niente setta al sinistro blueback dragon per soul exchange ah meglio ancora certo cosa meno gli fa danno blowback per il mostro game board puro attenzione doppia head morto il serpentino il serpentiello battle face picchia damage la doppia sono un bordello di danni guardate un po' 4006 ring la combo la combo la combo del soldo questa è no scherzo e arriviamo al game 3 della finale parte il danni parte mirror upstart mst scape thunder drago pesca dashut se non mi ricordo male questo upstart pesca incredibile mi sbagliavo mi sbagliavo assolutamente ok setta spia setta dust setta scape setta un cristo dashut che ributta dentro immagino il cybersteinone unesto poi reasoning per sette raga sei affanculo sono quasi ok prio spacca vuole spaccare spia un tails malissimo doppio tails basta gg picchia onestissimo la spia che porta l'altra spia setta la locomotiva incantata e passa ripesca tsukukuku è tutto picchia pesca 1 al mat easy setta 1 all'inmezzo ripesca cyberstein ok adesso farà attivo l'effetto sull'ultima settata centrale infatti tail ancora malissimo doppia tail ancora fortissimo battle face picchio mirror male male so se sette scapegoat setta anche limite becca limite ok battle scape rimane con due token ancora tsukuyomi setta rege keybreak passa e qui le opzioni sono sangan o cyberstein setta sangan ok qua cristo picchia tutto opla si piglia cyber jara però beh dancia la rege keybreak pronta con la rege break qua fa un male tremendo infatti qua se se mi permette il matt cioè nel senso non so se vorresti pulirti da sta roba e allora fai fai boh fai eh vabbè ma cyberstein muore ci muore quindi no stavo dicendo fai ryusenshi ti pari però poi da questo ci muori praticamente 1700 ci muori poco avanza comunque dura brutta sigla setta metamorfosi blef poco da fare però perché qua questo va a ucciderla jara imbitta tutto cyberstein diventa morto è durissima setta per eventuale snatch steal pesca monster gate lo farà lo sta facendo anche qui qui deve beccare deve beccare probabilmente dimo che è la cosa più più forte che può prendere perché perché se becca comunque anche fuciliere non fa molto fuciliere bitta c'è comunque un altro sorcio in mano becca il serpente più forte che c'è proprio lui metamorfosi per per cucciare però c'è Tsukuyomi in mano ovviamente prende spia tenta di bittare passa Tsukuyomi scopro bitto vinto e la vince così il Dan top deck team detto anche il Dan i casi due bei mattoni in mano c'ha ragione che dire rega una bella partita è stato un bel torneo il Dan si è portato a casa i suoi 30 pleuroni come promesso io vi chiederei un bel laichino di supporto ok vi ricordo di seguirmi su Twitch dove facciamo le live pazze gravate e vi aspetto al torneo di Edison che sarà il 13 ottobre per iscrivervi basta entrare nel discord ci sarà il modulo da compilare iscrivete amen siete a posto non vi preoccupate che non vi rubo i dati e basta il torneo è gratuito vince da 30 euro cosa volete di più un saluto da Randalone ci vediamo al prossimo video un saluto Grazie a tutti.